la zona fatta dall'Ele adesso si giuro se vengo qua una sera glieli sposto quei due tronchi lì giuro eh è così la zona li tolgo perché non la fai tu? e fammi vedere fammi vedere com'è allora è entrata ok giri va bene dai forza forza ah non devi girare a destra si doveva girare a destra va bene hai girato qua dietro e la incroci che non va bene allora perché non si può girare? perché no questo lo mettiamo qua guarda che la incroci eh devi chiuderla prima eh devi chiuderla prima perché sennò la incroci quindi devi girare e chiuderla voglio vedere come la fanno ok chiudi bravo vieni giù dopo dove sali da qua? dal mortacci mortacci cioè ha messo giù una zona guarda guarda devi chiuderla prima e tanto dopo qua sennò non giri eh dopo sennò non giri indietro è troppo stretta lì bravo 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 e chiuderla un pelino prima bravissimo va bene chiuderla qua si di qua dal sasso si trova stretto lì trova stretto lì no lì la devi fare chiusa perché se vieni qua a girare qua è troppo difficile bravo lì bambini lì sennò lì 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 bravo scendi bravo bravo bello